O in ordine! Siete degli atleti delle Olimpiadi! Signori e sull'attenti! Benvenuti ragazzi in questo nuovo video! Siamo alle Olimpiadi del Park! Questo format è nato dalla noia estiva che c'è in Park! Infatti noi passiamo ore in Park ragazzi! Sotto il sole, cucente, abbiamo le allucinazioni che talmente fa caldo in Park! Quindi cosa abbiamo detto? Dobbiamo organizzare una competizione di sfide stupide e sceme per cercare di passare il tempo sostanzialmente! Nel 2021, siccome ci sono le vere Olimpiadi a Tokyo abbia detto, non siamo degni delle Olimpiadi! Certo che siamo degni di fare le Olimpiadi! Olimpiadi del Monza Pizza Bike Park 2021 ragazzi! Guarda qua! Medaglia d'oro, medaglia d'argento, medaglia di bronzo! Premio speciale ragazzi per il vincitore dell'overall generale! Ci sono... Fadini di orizzontale! Vai in linea, ci squalifichiamo subito! Mano sul cuore! Ragazzi, stanno iniziando le vere Olimpiadi del 2021! Le Olimpiadi del Monza Pizza Bike Park! Abbiamo il primo partecipante! Vi raccomando la FIGICI! Teolo Macci! Sono il secondo! Lo scrocco! Il nostro terzo partecipante! Il signor Cacca! Presentati! San Corti! San Corti da... Lecco! E attenzione! Con la bandiera dall'Italia! Signore! Direttamente da Monza! Ragazzi! Il pazzo! Ah così! Il pazzo! Una new entry nei miei video ragazzi! Il buon Eros Ramazzotti è qui con noi! L'uomo che potrà soltanto intimorire tutti gli altri avversari ragazzi! E' l'uomo più sexy che abbiamo in parco! E' per te che mi devi vedere partire! Ma si può essere così tanto disorganizzato? Dai donna! Il maestro ragazzi! Membro ragazzi di A Mio Cugino Racing Team! Beppino! E' alla fine un'imponenza incredibile! Guardate com'è saldo sul terreno! L'uomo sasso! Saldo! I partecipanti sono... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! E sono io coglione! Ah se non ti ho presentato! Anche l'alboreto è partecipante ragazzi! Abbiamo i nostri 10 partecipanti ragazzi che dovranno sfidarsi in 5 prove estreme che in realtà ragazzi non coinvolgono per forza la bici! Abbiamo qui ragazzi 250 euro e ogni prova uno di loro si aggiunticherà un 50 euro! Il migliore! Come sapete benissimo il bag bagnato è una cosa mortale scivolosissima! Difficilissimo salire anche perché lo stiamo facendo gonfiare più del dovuto! Infatti è una montagna! Un pallone gonfiato! Questa è la scalata della montagna del Monsa Pizza Bag! Le regole sono poche! Bisogna salire solo dal davanti dell'airbag! Vince! Ti riesci a stare in piedi in cima all'airbag 10 secondi senza farsi buttare per terra dagli altri! Siete pronti? Sì sì sono pronto! 3, 2, 1, via! Sì! Sì sì sono pronto! Sì! Sì! Vieni! Vieni! Basta! Vieni! Vieni! Sì! Vieni! Vieni! Sì ed vince l'Eolo Max! Attenzione, prima sfida! Abbiamo un vincitore della prima sfida e si becca il primo cinquantello! Ragazzi, questa prima prova si è conclusa, dietro di me il bec si sta sgonfiando, i primi 50 euro sono stati aggiudicati a Leo. Volevo subito adesso parlarvi però dello sponsor del video di oggi ragazzi, che è BuddyBank, proprio perché ha fatto questa promozione che si chiama Cinquantino. Apri un conto BuddyBank per la prima volta entro il 30 settembre e attiva la carta di debito entro il 30 ottobre e ricevi 50 euro di bonus. Ma che cos'è ragazzi BuddyBank? Ve l'ho già accenato ragazzi in altri video. BuddyBank è il modello di banca solo per smartphone, buy unicredit. Ragazzi, non vedo perché non approfittare di questa promozione, veramente. Fanno comodo a loro 50 euro e si sbattono per prenderseli perché stanno facendo tutte le prove. Con BuddyBank è ancora più facile ragazzi. Vi lascio comunque tutte le info sia della promozione sia di BuddyBank in descrizione. Eccoli! Seconda sfida ragazzi, la carriola più veloce del West. Abbiamo sempre imparato i nostri 50 euro. Prova tempo, riempire la carriola più velocemente possibile, prendere la carriola, correre fino al cestino là in fondo dell'umido, giro di boa, tornare indietro e traguardo è la linea questa qua dei panettori. Tempo migliore, si becca al 50. Via! Vai, passo, passi. Dai! Ok, sì, basta. Vai, 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 vai! È partito! Vai, Sam, vai! Vai, Beppo, vai! No! Incredibile albia, alboretata anche con la carriola. Dai, Sam, dai, Sam, puoi battermi, dai, Sam! Oh, perde un po' di terra, attenzione! Ma è stanco! Il salti! Dai, Sam! Quanto? 1,02! La carriola più veloce del West, della giudica, Juan Sam Shorty! Grazie, grazie, grazie. Ragazzi, per la terza sfida usiamo veramente una bici. La mia nuova bici da dirt che non abbia ancora spoilerato. Quindi? Quindi? Eccolo. 3 banconate a 50 per ancora 3 prove, ragazzi. Sì, ma Toto, tanto li guadagno comunque scaricando Buddy Bank. Perché abbiamo, ragazzi, scelto la bici nuova. Questi qua, ragazzi, sono nuovi. Sapete cosa gli facciamo fare? Un bel girettino in Pantrac, ma... Che schifo questa scena! Che schifo! Un applauso per il Toto e le sue idee di merda. Leo? È partito! Prima... Madonna! Non c'è la più! No, vabbè! No, vabbè! 18 e 32! E' attenzione! E' attenzione! Spiega... No, non è possibile. Cioè, adesso stai soffrendo. Sì! Però ho vinto! Magari! Quello che conta! E dopo la prima prova, anche la terza prova, attenzione, già 100 euro in tasca per l'Eolo Max. Applaudite, grazie! Un applauso a l'Eolo Max. Allora, per la quarta sfida, ragazzi, sarà una caccia al tesoro, dei 50 euro. Voi dovrete partire tutti da un punto, dovete essere completamente bendati, ciechi. Io nasconderò questi 50 euro e vi dico dove saranno. Voi da bendati dovete trovarli. Sto andando a nascondere il cinquantello. Sembrate la setta! Conterò fino a dieci e voi dovete girare tenendovi la mano. Fate un bel giro giro tondo tutti assieme. Quando finisco di contare, vi lasciate le mani e andate a cercare il 50 euro. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Devo girare fino a te! Attenzione! C'è della lotta! Attenzione! Attenzione! Oh, li ha presi! Li ha presi! Li ha presi il Master! Apri un po' la mano. Sono quelli Master, togli più la bendera. Guardalo! Master! Facciamo finta che non li avete trovati. Con la mano! Si fa che ci sei vicino? Tira su! No, no! Ah, no, scusa, non è quello. No, sbagliato. Dai, dai, che ci sei! Eccoli lì! Eccoli! Oh, che cazzo! Li ha trovati, è vicino! Ma lì, ce li avete lì davanti! Ce li avete lì! Sono lì! Ci sta stiamando chiaramente. Ti ha già vinti Yakupara da mezz'oretta circa. Ma davvero? Sì! Ultima sfida e ultimi 50 euro in palio. Abbiamo in realtà due cerchi. Dovete stare dentro il cerchio più largo e dovete cercare di rimanere in piedi. Cioè, non vale mettere giù i piedi, sostanzialmente. Potete fare qualsiasi cosa, anche ostacolare gli altri, ma non dovete mettere giù il piede. Se mettete giù il piede, uscite dal cerchio. Quando sarete in cinque, dovete andare nel cerchio più piccolo. 3, 2, 1, via! Dentro, dentro, andate dentro! Attenzione, è il primo eliminato! Via, pazzo! Attenzione, si bloccano! Oh, fuori i sun shorty! Neolo Max ha tutta la pressione addosso, ragazzi! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, il moreto fuori! Oh, ma! Oh! Oh! È uscito! È uscito! Oh, è uscito! Attenzione, leolo Max! Sempre in finale! Oh, è fuori! Mi spacco la faccia! Oh, gli va dentro, cattivo! Attenzione! No! Attenzione! Brava, Beppino! Beppino! Esce vittorioso da quest'ultima sfida e si becca l'ultima cinquantona, ragazzi! I soldi sono stati dati, però qui abbiamo medaglie e si vince l'overall! Partiamo dal gradino più basso del podio! Terzo classificato con una prestazione incredibile! Oggi, il maestro! Vai, Max! Un applauso! Questa giornata è stata una lotta continua! Il secondo posto se lo giudica? Sam Shorty, ragazzi! Un applauso, Sam Shorty! Grazie! Per finire, attenzione! Porta sul gradino più alto del podio una rosa, ragazzi! Incredibile! Si porta a casa 100 euro in contanti! Il buon Leo Lomax, ragazzi! Un applauso! Baglietta! Tutto se è completo! Queste cose devono ancora uscire! Non ci sono ancora! State all'occhio perché tra un po' usciranno! Per adesso, l'unico al mondo che ce le ha è le Lomax! Premio di consolazione e barrette per tutti, ragazzi! Vai, lasciale! Ragazzi, dalle Olimpiadi del Monza Pizza Bike Park è tutto! Ricordatevi che Buddy Bank attiva la promozione cinquantino! È stato un piacere! Iscrivetevi! E noi ci vediamo in un prossimo video! Bella! Ciao! Anche con la notizia e barrette per tutti, ragazzi! Ciao! Cos'è di farla Sto vorremmo? Sto vorremmo! Ho! Ho! Oh! Oh!